Diciamo che col Tolentino è stato difficile giocare e quindi ci hanno creato dei problemi. Questa squadra in 15 partite ha perso due volte solamente. Col Tolentino abbiamo perso sia all'andata che al ritorno, però penso che questa squadra va a giocarsi le partite e meriterebbe qualcosa in più. Io penso che anche oggi qualcosa in più meritavamo se andavamo in vantaggio. Ma loro fanno questo, poi ci siamo spostati, abbiamo cambiato anche modulo perché perdevamo un uomo a centrocampo, ne abbiamo messi due come loro e abbiamo avuto la possibilità di entrare bene. Abbiamo speso un po' troppo al primo tempo dove potevamo essere un po' più lucidi, un po' più veloci nelle giocate e al secondo tempo l'abbiamo fatto meglio. Ci può stare, valuteremo in questi giorni perché non riusciamo più ad essere così incisivi. Ripeto, dobbiamo vedere se è una questione a livello atletico o se è una questione a livello mentale dove magari in queste ultime due partite ravvicinate così non siamo riusciti a buttarla dentro. Non dobbiamo perdere la fiducia, assolutamente non va persa la fiducia e niente, dobbiamo lavorare, siamo dispiaciuti come sempre però ripeto, la positività che ci ha contraddistinto da quando siamo entrati noi deve continuare, deve essere la nostra forza, ci dobbiamo credere ci dobbiamo credere perché abbiamo le qualità e i mezzi per crederci quindi ripeto, il rammarico c'è sempre il rammarico c'è sempre perché ci chiamiamo Samba e quando indossi questa maglia qua il pareggio non è vissuto in maniera serena. Grazie. Grazie.